Apple presentazione e nuovi prodotti dopo l'iniziale silenzio. Apple fa chiarezza sull'impatto sui suoi dispositivi della falla scoperta nei processori Intel. ARM e AMD. Il problema riscontrato sui microchip spiega l'azienda di Cupertino colpisce tutti i dispositivi Mac e iOS. Ma non possibile sapere quale impatto causi sugli utenti. Tuttavia fa notare Apple non ci risultano attacchi ai nostri clienti finora. Apple ha spiegato che iOS 11.2, MacOS 10, 13, 2 e T-Vos 11.2 dispongono oggi di protezioni disponibili e che nei prossimi giorni continueranno a fornire patch per coprire l'intera gamma di prodotti. La conferma di Apple arriva dopo che Intel, al centro della polemica, ha affermato che questo problema di sicurezza coinvolge molti fornitori e non solo loro. Sempre Intel ha replicato alla rivista digitale britannica The Register, che nei giorni scorsi aveva denunciato una falla che potrebbe esporre i computer alla pirateria informatica. Nella nota, Intel sostiene che, secondo studi effettuati negli ultimi mesi da diverse aziende, molti dispositivi informatici con processori e sistemi operativi di molti fornitori diversi rischiano queste vulnerabili. Secondo la BBC, sarebbero due i difetti. Spectra e Meltdown. Meltdown colpisce laptop, desktop e server internet con microchip Intel, mentre Spectra è letale con i chip in smartphone, tablet e computer con processori Intel, ARM e AMD. Detto questo, secondo il Wall Street Journal, Intel e numerosi big dell'iTech sapevano da tempo della falla i sistemi di sicurezza dei processori, da cui dipendono i PC prodotti negli ultimi anni. Secondo il quotidiano statunitense il lavoro messo a punto da Intel, AMD e ARM per porre rimedio al problema e al rischio di un attacco hacker solo l'ultimo capitolo di un lavoro che gli esperti di Apple, Google, Amazon e Microsoft stanno svolgendo da mesi per risolvere il problema.